Una frana dovuta alle forti piogge degli ultimi giorni ha provocato almeno 5 morti e ha distrutto decine di case nel villaggio di Villa Santa Lucia, nella regione dei laghi nel sud del Cile. Tra le persone decedute ci sarebbe anche un turista, mentre risultano ancora 15 persone disperse, mentre i soccorsi stanno evacuando anche grazie agli elicotteri gli altri abitanti. Centinaia le case senza elettricità. La presidente cilena Michelle Bacelet ha dichiarato lo stato d'emergenza. Grazie.